Se state avendo problemi riguardo all'avvio di Microsoft Sudoku, è possibile risolvere il problema andando direttamente su installazione, applicazione. Scendiamo fino a giù, fino a trovare così l'applicazione di Microsoft Sudoku. Eccola qua, tre puntini, opzioni avanzate. Se tu la tieni installata sul tuo computer ma non funziona, puoi semplicemente reimpostare così l'applicazione facendo un ripristino. Reimposti così l'applicazione. Oppure semplicemente se non dovesse funzionare, puoi fare disinstalla. Andiamo su applicazioni Scrivi qui sopra Sudoku Facciamo otteni, scarichiamo e installiamo dal capo l'applicazione. Un'olta fatto, premi gioco. Come te la cavi con il Sudoku, ovviamente l'applicazione è andata, quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao